Sindaco Luciani, è tempo quasi di bilanci, il prossimo anno scade il suo secondo mandato, il futuro è adesso il caso di dire? Sì, il futuro è adesso perché adesso bisogna programmare il futuro di questa città. Come ho scritto più volte, a dire il vero, noi ci siamo stretti per un'amministrazione, per condurre avanti un'amministrazione che cambiasse il modo di fare. E penso che abbiamo dato un bel segnale alla città in questi ormai, dico sempre dieci anni, anche se sono nove, ce ne manca uno, ma diciamo che siamo vicini all'arrivo. Ora vorrei che questa città continuasse su questo tragitto, su questo percorso solcato da noi e quindi mi sto dando da fare perché è vero, non potrò candidarmi come primo cittadino per le prossime elezioni, cosa che farei a questo punto anche volentieri, la legge non me lo consente e quindi passo volentieri però il testimone solo a coloro che hanno apprezzato e apprezzano questo modo di amministrare e che vogliono proseguire sullo stesso percorso. Resterà in politica? Beh, la politica è una passione, quindi dire a una persona, siccome è una passione come lo è il calcio, come lo è lo sport, come ne ho tante nella mia vita, perché no? Sicuramente sarò un grande appassionato di politica fino a che potrò farlo. Qualche tempo fa non aveva nascosto la sua volontà anche di volgere lo sguardo alla regione, è rimasta questa volontà, questa possibilità? In realtà è una cosa che mi chiedono e mi continuano a chiedere molti, non sono autoreferenziale, è che molte persone apprezzano il mio modo di amministrare, il mio modo di essere e quindi mi hanno chiesto di compiere un percorso verso la regione. Io ci metto tutto l'impegno, poi nella vita non si sa mai, vediamo quello che capiterà in futuro. Ma il futuro politico di Antonio Luciani resta nell'alveo del centro-sinistra ma non nel PD? Resta nell'alveo del centro-sinistra, questo è poco ma sicuro. Attualmente sono in una fase nella quale ciò che sta facendo il PD, soprattutto a livello regionale, non lo apprezzo. Forse a livello nazionale è meglio, molto meglio, ma a livello regione Abruzzo non è apprezzabile lo sforzo compiuto o non è sufficiente lo sforzo compiuto dal PD e quindi io mi sento ora un civico e ora continuo a restare molto vicino ai valori del PD sicuramente, ma non faccio parte di questo partito. Cosa le resta di questi dieci anni, ma soprattutto questa esperienza drammatica di questi mesi nella gestione dell'emergenza sanitaria del Covid? Resta, penso che questa sia una caratteristica che accomuni molti sindaci, la cosa che resta nel nostro cuore è l'affetto ricevuto dalle persone che a loro volta magari hanno ricevuto un aiuto, anche una semplice parola di conforto. Fare il sindaco e un po' fare il padre, il papà dei cittadini si considerano a volte dei propri figli, soprattutto quelli che sono in un momento di debolezza e di difficoltà. Questa è una cosa che portiamo nel cuore e che porteremo sempre nel nostro cuore.